Allora, dall'anno prossimo tutti quanti col kilt così, la stessa cosa, immaginatevi Marzio con quel kilt Ed ora proseguiamo, proseguiamo e in questo caso chiamiamo i nostri allievi perché la City of Rompay Band insegna anche a suonare gli strumenti che compongono la banda quindi nel caso le cornamuse e i tamburi in questo caso questo è il saggio finale del corso del 2014 degli allievi di Kornamusa forza, forza, non siate timidi mettetevi al centro, ecco qua, un corso nutrito e tutti quanti si esibiranno, chi con la Kornamusa e chi magari perché è iniziato dopo con il Practice Chunter che è lo strumento con il quale si studia la diteggiatura della Kornamusa ci esibiremo in un brano che è Highland Cathedral adesso signori vengo io insieme a voi, mezzo a voi Lello Splendor ok? e il brano che stiamo per eseguire insieme ai nostri allievi è Highland Cathedral grazie 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 grazie